La notizia Elia Fongaro e Jane sono infatti sempre più vicini.Ieri notte i due hanno passato qualche ora nello stesso letto, ed è quasi scappato un bel limone. . Grattini, carezze, baci sul collo e intrecci di mani, ormai manca solo un vero bacio e a quel punto avremo la prima coppia ufficiale del GF Vip 3. Insomma, come ha fatto notare qualcuno, il tradimento sembra ad un tiro di schioppo. . E pensare che appena una settimana fa Gianmarco aveva chiesto a Jane di sposarlo. Lei non aveva risposto, ma era scoppiata in un pianto che sapeva molto di risposta affermativa. . Elia Fongaro per ora, ha resistito alle provocazioni. Ci riuscirà anche in futuro? . Elia Fongaro, è diventato famoso per alcune campagne di moda, e per aver fatto il velino a striscia la notizia nel 2013 insieme a Pierpaolo Pretelli. . Dopo aver conseguito il diploma in ragioneria e lascia la sua città, e si trasferisce a Milano. Qui si iscrive alla Facoltà di Scienze Politiche, e intanto inizia a lavorare come modello posando per diversi brand. . . Elia Fongaro vorrebbe lavorare nel campo editoriale, magari come giornalista, ma ha ancora qualche dubbio. Intanto per mantenersi agli studi, sfila come modello per diverse case di moda. Durante gli anni del liceo, ha fatto il barista, e teneva i conti in una piccola azienda del suo paese, che produce macchinette del caffè. . I suoi sport preferiti sono tennis, nuoto e calcio. Tifa Inter e il suo calciatore preferito è Avia Zanetti. . Gli piacciono le canzoni di Antonello Venditti. Nel 2013 Elia Fongaro ha partecipato ai casting di striscia la notizia per un motivo ben preciso. . . . . . Nel suo curriculum c'è anche Mr. O, il programma di Italia 1, che ha presentato da sola nel 2011, e insieme a Paola Barale, Marco Berri, Daniele Bossari, Andrea G. . 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